Sì, sul discorso Fideiussioni, che poi non riguarda questo emendamento, abbiamo già detto prima che rimarrà per i mercati coperti e platatici attrezzati, mentre il deposito cauzionale sarà costituito dal canone per gli altri tipologi di posteggio a tutela di eventuali sanzioni. Per quanto riguarda invece l'emendamento, l'articolo 28 parla di somministrazione e consumo sul posto all'interno dei mercati. Cioè è la visione di rilancio dei mercati e questo emendamento del PD dice no, noi ci piacciono i vecchi mercati, ci piace che ci sia solo l'ortofrutta, che ci siano solo le categorie standard e che la situazione rimanga quella che è. Io rimango basito di questa cosa, però per carità ognuno ha la sua visione, per noi è fondamentale che i mercati assomiglino, assomiglino o magari superino ancora meglio, visto che Roma è la città più bella del mondo, i mercati di Barcellona, la Boccheria, e di San Miguel a Madrid. Questo è quello che ha ispirato questo articolo e questo è quello che auspichiamo per la città come servizi per i cittadini e per attività produttive e opportunità per chi esercita. Grazie.